E' ora di andare Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Pagab pasar Pagab pasar Limpi Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. 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 Tenersi a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a tutti. e poi uscire a tutti. non è a tutti. troverò un po' percorso. tenersi a tutti. a tutti. tenersi a sinistra tenersi a destra e poi continuare dritto andare dritto un po' di tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra voltare a sinistra prepararsi a voltare a destra voltare a destra prepararsi a voltare a sinistra voltare a sinistra abbiamo finito